Il commercio all'ordine del giorno, in particolar modo la mancanza di un piano, volendo usare le parole di Saccone, consigliere del PD a Montesilvano. Non è piaciuto al Consiglio di oggi che si è riunito a fatica e solo in tarda mattinata si è raggiunto il numero legale. Il continuo favorire la grande distribuzione porta ovviamente ad un sacrificio delle attività commerciali di Montesilvano, soprattutto quelle storiche che sono da anni in grande sofferenza. Nonostante si continua a dare autorizzazione a nuovi centri commerciali, non ultimo il Carrefour, per il quale c'è stata l'inaugurazione qualche settimana fa, noi non siamo a priori contrari ai centri commerciali, ma quello che vorremmo capire è, perché anche fino a qualche tempo fa si parlava di uno sviluppo diverso in città, un boulevard di qualità nel centro città, e che fine ha fatto questo progetto? Via Roma completamente abbandonata, tutto il centro cittadino è in una situazione di caos dal quale non si capisce bene qual è l'indirizzo futuro e quindi quale prospettive di crescita ci possa essere in città. Centri commerciali che nascono come funghi, molti addirittura adiacenti. L'ultima autorizzazione concessa dal Comune di Montesilvano dovrebbe riguardare il terreno alle spalle del Cona d'Ardente su Via Verrotti. Questo ha delle conseguenze, sia dal punto di vista del commercio, scoraggiando il commercio di prossimità in una dimensione sociale, proprio perché la nostra città continua ad essere quella società spersonalizzata, proprio perché si privilegia la macchina, la comodità, il parcheggio e quindi di conseguenza anche aumenta il traffico, quindi cambia l'assetto della città nel tempo. E le sorprese non sono finite perché il punto in questione è stato spostato alla fine della seduta in quanto l'assessore competente Francesco Di Pasquale ha avuto un imprevisto. Ironizza Romina Di Costanzo del PD sull'accaduto. Arrivati al punto, si fa per dire, complice le feste, chissà, c'è stato un via via dall'aula. E alla fine è venuto a mancare il numero legale. Insomma, per rispondere a qualche disagio sul commercio cittadino ci sarà tempo, magari dopo le feste.